Domenica 20 giugno e finalmente riusciamo a inaugurare la cappella di Sant'Antonio dove è esposta una mostra sulla necropoli Longobarda, necropoli che è stata trovata a Sant'Albano, in località Ceriolo, nel 2014 e che è una delle più importanti a livello europeo e la più importante a livello italiano. Quindi per noi era molto importante riuscire a portare questi reperti nel nostro piccolo comune anche perché con la necropoli è di Sant'Albano, nel territorio di Sant'Albano quindi era giusto avere un piccolo ricordo di queste popolazioni che hanno abitato prima di noi i nostri territori. Quindi l'augurio è che tutto vada bene, che tutto riesce nel migliore dei modi e le invito a tutti quanti di partecipare a questa inaugurazione domenica 20 giugno alle ore 10.